Oggi la Bureli Health Service è una realtà che opera in due grandi macro-aree, che sono quella della logistica sanitaria, quindi trasporto infermi, assistenza sanitaria presso strutture pubbliche e private e tutta l'area del soccorso stradale e dell'assistenza stradale. Opera stabilmente sulla provincia di Napoli, sulla provincia di Caserta, sul Roma e adesso da qui a qualche mese avremo un focus importante anche sulla provincia di Milano. Il cloud a noi è servito per garantire alla pubblica amministrazione e anche agli utenti che soffrirono dei servizi innanzitutto la privacy della gestione di questi dati, che sono dati sanitari, e poi tutta una serie di rendicontazioni, di razionalizzare il tempo di intervento da parte del personale e anche di avere il polso della situazione di tutti gli interventi che venivano svolti quotidianamente. La società alla quale ci siamo rivolti, la società Epsilon, ci ha permesso praticamente di andare a risolvere immediatamente l'esigenza che avevamo noi come operatori, ma soprattutto la parte del committente che era il Ministero. Devo dire che questa società ci ha permesso in brevissimo tempo, parliamo di 40-45 giorni, a mettere su già una bozza di progetto pilota da presentare al Ministero e addirittura da lì poi a 10 giorni di renderla anche operativa.